Un nuovo episodio di Money Flash, settimanale di approfondimento sui mercati finanziari e sulla finanza personale a cura di Massimo Famurano per liberi oltre le illusioni. Oggi parliamo di tre argomenti, la Federal Reserve che ha lasciato invariati i tassi di interesse in un range compreso tra il 5,25 e il 5,50%, l'agenzia di rating di BRS che conferma il giudizio sulla Repubblica Italiana e il terzo mese consecutivo di calo per le borse mondiali che potrebbe preludere a quello che viene chiamato un piccolo rally di fine anno. Cominciamo con la Federal Reserve, era abbastanza atteso dagli operatori del mercato che la banca centrale americana lasciasse invariato il livello di tassi di interesse e è la seconda volta di seguito a partire dall'avvio di questo ciclo di politica monetaria restrittivo cominciato nel marzo dello scorso anno, i livelli col 5,25 e 5,50% sono ai massimi da oltre 20 anni e qui diciamo si tratta di una restrizione di politica monetaria forte, l'obiettivo come è noto è quello di contenere l'inflazione e la decisione di non alzare i tassi sostanzialmente segnala che con le informazioni disponibili ai membri del board che prende questo tipo di decisioni essenzialmente gli effetti restrittivi della politica monetaria si staranno in qualche modo trasferendo all'economia e soprattutto è molto evidente l'aumento dei costi di finanziamento oltre che diciamo addirittura l'impatto ad esempio sul mercato immobiliare che per molti è ritenuto quasi ad un livello di stallo visto che chiaramente i livelli target dei mutui e tasto fissi hanno toccato forse l'8% e per molti diciamo acquirenti è diventato perché acquistava con leva è diventato diciamo molto difficile finanziarsi e nel commento della banca centrale non ci sono particolari differenze rispetto a quanto evidenziato nel commento della scorsa decisione che anche quella aveva lasciato i tassi invariati la banca centrale conferma che i propri obiettivi riguardano un target di inflazione del 2% nel lungo periodo e un livello di piena occupazione le variabili più rilevanti per i quali diciamo che i banchieri centrali osservano per prendere le loro decisioni guardano sicuramente il mercato del lavoro e in particolare alla base di questa decisione c'è un aumento del numero degli occupati inferiore agli inizi dell'anno ma comunque diciamo con un tasso di disoccupazione piuttosto bassa e con l'inflazione che permane ancora elevata per le decisioni future quello che ci dice la banca centrale americana è che essenzialmente le eventuali decisioni future saranno legate chiaramente ai fattori macroeconomici in particolare all'andamento del mercato del lavoro e all'obiettivo chiaramente dell'inflazione e che in questi terranno chiaramente conto dell'eventuale ritardo temporale con il quale la politica monetaria si trasmette all'economia quindi diciamo si può leggere anche questa pausa come la volontà di attendere che le decisioni passate che rialzi passati abbiano in qualche modo un effetto sull'economia per quanto riguarda invece l'agenzia di rating anche DBRS abbiamo spiegato le motivazioni alla base della decisione di standards and pools di confermare il proprio giudizio sull'Italia nell'episodio precedente DBRS conferma il giudizio che è leggermente migliore delle altre agenzie quindi una tripla B high le motivazioni sono abbastanza simili a quelle che aveva detto standard and pool e di cui abbiamo già parlato nell'episodio della scorsa settimana sostanzialmente si ritiene che le diciamo criticità che attendono le finanze pubbliche del nostro paese che potrebbero mettere in discussione la sostenibilità del rapporto debito PIL nel tempo e criticità segnatamente costituite da una minore crescita economica da maggiori oneri finanziari perché abbiamo detto che i tassi di interesse sono elevati per la politica monetaria restrittiva che si registra diciamo da oltre un anno su entrambe le sponde dell'Atlantico ma questi effetti negativi sulla finanza pubblica per il momento dovrebbero essere compensati dallo stimolo fiscale e i fondi del piano Next Generation EU e quindi le riforme e gli investimenti legati al piano nazionale di ripresa e residenza dovrebbero in qualche modo compensare questi effetti negativi e in generale sul giudizio di BRS pesa anche una valutazione sullo stato generale dell'economia italiana che viene definita come ben diversificata resiliente con questa parola che è diventata di moda e anche diciamo sulla capacità del sistema economico di resistere a shock negativi e con una posizione diciamo anche abbastanza solida per quanto riguarda i conti con l'estero e quindi diciamo anche con un flusso positivo di investimenti ma mi fa piacere che BRS diciamo abbia menzionato il suo giudizio qualcosa che avevamo detto in questa rubrica la volta scorsa con il riferimento del S&P ed è il sostegno implicito della Banca Centrale Europea quindi sostanzialmente di BRS dice chiaro e tondo qualcosa che avevamo detto in questa rubrica ossia l'idea che quando si guarda alla sostenibilità del debito pubblico che magari potrebbe essere diciamo non così scontata guardando semplicemente ai numeri bisogna tenere conto del sostegno implicito che deriva il nostro paese dalla diciamo in qualche modo adesione all'Unione Economica e Monetaria Europea e cerchiamo di stare nei tempi facciamo per la prima volta insomma un po' anche qualche riferimento ai mercati vediamo che nel mese di ottobre le borse mondiali si chiudono per il terzo mese consecutivo in negativo in particolare l'indice MSCI World chiude a meno 2,9% e qui diciamo si tratta sostanzialmente di quella cosiddetta correzione di cui per dire avevo parlato anche nei miei podcast della finanza in soldoni in particolare nell'episodio 4359 quindi che datavano giugno e agosto di questa correzione attesa dopo la corsa dei mercati nei primi 8 mesi dell'anno e essenzialmente secondo gli osservatori diciamo dopo questi tre mesi di correzione potremmo assistere a quello che si dice un piccolo rally di fine anno quindi la possibilità che a fronte di una serie di segnali meno negativi quindi diciamo la pausa nei rialzi dei tassi di interesse l'inflazione sotto controllo e come unica diciamo variabile un po' di criticità il quadro geopolitico internazionale soprattutto con il rischio dell'escalation in Medio Oriente che le settimane scorse prima dell'ingresso di Israele nella striscia era in qualche modo ritenuto più basso adesso chiaramente resta un punto un po' aperto e per chiudo diciamo un po' anche il quadro di questa rubrica di questa settimana ci dobbiamo lasciar tentare da questo rally di fine anno è un momento buono per investire tra l'altro tenendo meno quella diversificazione che insomma di cui avevamo parlato in passato di cui parleremo sul discorso delle obbligazioni potremmo assistere quindi a un andamento positivo così come si è registrato un andamento parallelo e negativo di azioni e obbligazioni negli ultimi mesi potremmo assistere anche qui a un diciamo percorso parallelo in positivo legato al fatto che quindi le borse in qualche modo potrebbero in qualche modo rimbalzare dopo questa presa di beneficio tenendo conto che da un punto di vista della politica monetaria ci sarebbero segnali che il peggio è passato quindi con la possibilità di forse un altro rialzo entro il primo trimestre del prossimo anno ma comunque diciamo con l'indicazione che già a partire dalla fine del prossimo ci si potrebbe attendere qualche abbassamento di tassi di interesse e a quel punto anche con l'andamento delle obbligazioni che segue questo trend quindi con l'idea che essenzialmente poi possano salire di nuovo anche i prezzi delle obbligazioni a questo proposito che cosa possiamo dire? Possiamo dire che il tentativo di posizionarsi in modo opportunistico sui mercati finanziari ad esempio di sfruttare rimbalzi è un fattore molto rischioso e generalmente i rischi non sono compensati dai rendimenti la maggior parte delle evidenze statistiche che abbiamo soprattutto sui piccoli risparmiatori ci dice che tentare di inseguire i mercati di comprare quando scendono e soprattutto di vendere quando salgono è qualcosa che riesce molto raramente che ha costi di transazione e che produce performance negativa quindi il messaggio di questa rubrica è sempre quello di ragionare in un'ottica di lungo termine ed eventualmente sfruttare queste flessioni comunque le osservazioni che abbiamo dei mercati per un fine tuning e ad esempio quindi per magari se abbiamo un piano di investimento di lungo periodo ad esempio in azioni intensificarlo nei momenti in cui ci sono delle fasi di correzioni e di lasciarli andare nel momento in cui chiaramente poi ci sono rimbalzi ma l'idea è che quello che dà un premio e consente di avere una performance positiva sui propri portafogli è un atteggiamento di lungo periodo quindi l'allocazione a strumenti di obbligazioni di breve termine di liquidità per i soldi che ci potrebbero servire su un orizzonte breve diciamo di 12-24 mesi di allocazione all'azionario per i fondi che invece potrebbero servirci su un orizzonte più lungo diciamo 36-48 mesi eventualmente l'obbligazionario per quello che cade in mezzo come abbiamo detto in passato ad oggi l'asse class sulla quale ci sono dei dubbi rilevanti è appunto l'obbligazionario di medio termine perché ad oggi i rendimenti dell'obbligazione breve sono elevati spesso più elevati di quello a lungo termine e quindi l'asse class diciamo un pochino più sfortunata e sulla quale dovremmo fare dei ragionamenti e li faremo nelle prossime episodi riguarda proprio l'obbligazionario l'obbligazionario che ha perso nel tempo il suo fattore di protezione di correlazione negativa rispetto all'azionario perché spesso diciamo come abbiamo visto si muove nella stessa direzione procura storicamente sicuramente dei rendimenti inferiori all'azionario quindi tutto quello che può essere investito per un periodo superiore a 3 o 4 anni dovrebbe essere implicato in azionario perché ha un rendimento diciamo maggiore con un rischio sostanzialmente assimilabile viste le oscillazioni breve termine la liquidità in questa fase è bene sfruttare lo vediamo anche con la crescita dei gasti di deposito delle remunerazioni sui conti corrente breve termine quindi il dubbio resta sulle obbligazioni che vedremo in qualche episodio futuro potrebbero essere anche sostituiti da strumenti di risparmio gestito ad esempio ETF in titoli azionari che pagano alti dividendi quindi sostanzialmente dubbio sull'asset class obbligazionaria e sicuramente indicazione molto positiva per la liquidità e per il breve termine e per le azioni nel lungo termine che sono diciamo il mantra di questa rubrica di cui sentirete sempre parlare anche con gli aggiornamenti ai mercati grazie a tutti per aver visto Maniflash di massimo famularo su Liberi oltre le illusioni e appuntamento alla prossima settimana arrivederci